Torniamo dunque sulle note dell'inno dell'ONU, ben ritrovati da Fabio Camillacci, questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano, dunque come avete sentito dalla copertina introduttiva che vi abbiamo riproposto anche in apertura di capitolo secondo, oggi parliamo dei settant'anni dell'ONU, dal 1945 a oggi, l'ONU nato ufficialmente il 24 ottobre 1945, ne parliamo però perché è tornato protagonista l'ONU proprio recentemente con l'Assemblea delle Nazioni Unite dedicata alla questione Siria, la coalizione internazionale che si è formata a guida statunitense sotto l'egida dell'ONU per l'attacco alla Siria di Assad, peraltro ci sono anche delle notizie di attualità, dell'ultima ora, tensione nei cieli tra Turchia e Russia, c'è stata una riunione d'urgenza del Consiglio Nato perché le autorità di Ankara affermano che sabato caccia turchi hanno intercettato un jet russo nel loro spazio aereo, mentre domenica altri due F-16 turchi sono stati inseguiti da un MIG non identificato, ecco ci sono dichiarazioni da parte della Turchia in cui si legge pronti ad attivare le nostre regole di ingaggio, la Nato dice che tutto questo è inaccettabile e per questo è stata convocata una riunione d'urgenza del Consiglio Nord Atlantico. Di questi temi di attualità adesso però ne parliamo con un altro ospite che è in collegamento telefonico, un piacere avere in diretta la storia oscura il deputato del Movimento 5 Stelle, Maglio Di Stefano, buon pomeriggio, benvenuto. Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato perché ricordo fa parte della Commissione Affari Esteri e Comunitari e anche del Comitato Permanente Africa e Questioni Globali, quindi una serie di temi di attualità che si intrecciano tra loro con l'emergenza migranti scatenata proprio da tutto quello che sta accadendo con lo Stato Islamico e con la questione Siria. Richiedo innanzitutto qual è la posizione del Movimento 5 Stelle in merito all'attacco alla Siria. Noi abbiamo sempre sostenuto quindi il primo giorno che la Siria andasse lasciata in pace dal punto di vista militare e andassero avviati dei seri e non faziosi tavoli di dialogo dove al centro vi fosse ovviamente il Presidente Bashar al-Assad per esempio il fatto che ci piaccia o no era il Presidente ed è il Presidente della Siria e quindi andava coinvolto nella trattativa. Chiaramente si è arrivati a un punto dopo 4 anni in cui se guardate la mappa della distribuzione nelle forze sul territorio siriano il governo di Bashar al-Assad controlla sostanzialmente soltanto le grandi città che comunque fanno quasi 14 milioni di abitanti, tutto il resto è in mano alle milizie terroristiche che non sono purtroppo soltanto quelle dell'ISIS ma sono in questo momento svariate a cui si aggiungono anche le tribù locali quindi c'è un contesto completamente incontrollabile e quindi diciamo che l'intervento russo in difesa del governo di Assad può avere un senso, noi l'abbiamo sempre condannato a qualunque tipo di intervento militare ma oggi la situazione è totalmente crollata e quindi chiaramente qualcosa va fatta. Ci auguriamo come hanno anche detto in sede delle Nazioni Unite all'Assemblea Generale i Presidenti e di Iran e anche altri Presidenti che si possa fare una coalizione internazionale che risolva un po' il problema ma mi sembra di capire che gli Stati Uniti siano messi già di traverso. Ecco infatti questo è il punto saliente che poi questo attacco alla Siria rischia di diventare poi una questione di tensione tra Stati Uniti e Russia, soprattutto questo sta diventando, cioè stiamo come se stessimo rientrando con situazioni diverse in quel clima di guerra fredda che si è vissuto fino all'89, sempre questa contrapposizione USA-Russia oggi no? E oggi le cose sono cambiate grazie all'avvento della tecnologia, nel senso che a differenza della guerra fredda dove era tutta fondata sullo spionaggio, oggi è tutto grazie alla tecnologia. È evidente che gli Stati Uniti in questo momento sono in grave difficoltà, sono in difficoltà perché hanno sbagliato completamente la strategia, pensavano di, questo è un ormai andato rifatto, pensavano di far fuori Assad come hanno fatto anche in altre regioni del mondo, immagino ad esempio il Sud America, armando le milizie ribelli al Presidente, un gioco sporco, anzi sporchissimo, che però è stato sempre fatto purtroppo. Si è trovata però con il zocattolo più grande di quanto si aspettava perché comunque poi da lì sono nati anche dall'Iraq che poi sono andati anche in Siria i famosi milizieri dell'ISIS. Oggi quindi con un colpo di genio in realtà dal punto di vista strategico internazionale Putin ha preso in mano la situazione risultando a sua volta in questo caso il salvato della patria perché è quello che si sta difendendo dall'ISIS. Ora è chiaro che entrambi, Russia e Sud America non hanno alcun interesse in realtà a salvare né noi né la Siria, hanno interessi strategici entrambi e che si possono chiamare imperialismo tranquillamente, la Russia non è diventata all'improvviso il miglior amico di Assad perché Putin l'aveva già venduto due anni fa Assad, ma ha scoperto che saltando la Siria salterebbe la sua ultima base sul Mediterraneo, quella di Tartus, di conseguenza deve difenderla e oltretutto è importante per una questione di distribuzione del gas che è già saltata in parte grazie alla crisi ucraina, quindi diciamo che in questo scacchiere di risico nessuno pensa ai civili che oggi sono il vero dramma, si parla di milioni di profughi e di sfollati interni, una situazione drammatica in un contesto ancora peggiore, se pensate che anche lì vicino lo Yemen ha perso l'80% della sua popolazione e quindi è il momento di intervenire, dico non perché io voglia fare un favore ad Assad, ma perché questa situazione è drammatica anche per l'Italia, perché quello che subiamo di riflesso è quello che abbiamo visto in questi giorni con gli sbagli degli immigrati e con i problemi che stiamo avendo. Ricordo che siamo in collegamento telefonico con Maglio Di Stefano, deputato del Movimento 5 Stelle, della Commissione Affari Esteri e Comunitari di Montecitorio, stiamo parlando della situazione attuale relativa all'attacco alla Siria, della posizione del Movimento 5 Stelle e non solo. Le faccio una domanda legata proprio all'ONU, visto che oggi abbiamo parlato, stiamo parlando, abbiamo iniziato questo percorso da lontano, siamo partiti dalla Società delle Nazioni, abbiamo detto il grande fallimento della Società delle Nazioni, e invece l'ONU in qualche modo è riuscita a garantire dal 1945 ad oggi l'ordine mondiale, se non altro evitando la terza guerra mondiale, però abbiamo detto che ce ne sono state tante di guerre e continuano ad essercene. Abbiamo spostato l'asse, semplicemente. Abbiamo, esatto, perché poi di fatto è così e quindi le chiedo ad oggi l'ONU che potere ha realmente, abbiamo già parlato delle differenze tra Assemblea e Consiglio di Sicurezza con il diritto di veto e abbiamo sottolineato che poi di fatto il bello e il cattivo tempo lo fanno sempre le potenze mondiali. Una cosa interessante che ho sentito ripetere a quasi tutti i presidenti che sono intervenuti durante il dibattito all'Assemblea Generale, io ero a New York appunto fino a ieri, è stata la necessità di riformare le Nazioni Unite e il processo è già in corso in effetti, se ne sta già parlando. Il problema è che è un organo che come tutti gli organi internazionali decide ma non obbliga. Di conseguenza che succede? Che se, come è stato nel 2011, la Francia imbarba alla risoluzione delle Nazioni Unite decide di attaccare la Libia e destabilizzarla per sempre, lo fa tranquillamente e non subisce nessun tipo di pena. In Siria eravamo sull'orlo del stesso tipo di situazione un annetto fa, l'Italia tra l'altro con la Pinotti, con il ministro della difesa Pinotti, era già stata disponibile. Fortunatamente le forti pressioni sociali anche in Italia e devo dire anche grazie al Movimento 5 Stelle che si è fosse duramente in Parlamento, si è evitato e per fortuna grazie anche all'interposizione di Putin che disse chiaramente che nessuno tocchi la Siria. Ma questo è testimone della debolezza di quest'organo, è un organo che non ha nessun tipo di reale controllo sui paesi che ne fanno parte. E aggiungo un'altra cosa, è un organo che è fondato oggi sulla totale ipocrisia, abbiamo dei rapporti solidi, duraturi e stabili con paesi come l'Arabia Saudita che insieme al Qatar sono i primi foraggiatori di gruppi terroristici nel mondo, dove non è rispettato nessun tipo di diritto umano, dove c'è una lapicazione ogni due giorni, ma riteniamo un dittatore da eliminare con qualsiasi mezzo Assad in Siria. Cioè allora capiamoci un attimo, ci interessa davvero portare la pace e i diritti umani nel mondo o ci interessa soltanto laddove ci sta scomodo il presidente di turno? Perché questa è la domanda che anche i presidenti all'Assemblea si facevano. Rouhani ad esempio il presidente dell'Iran ha fatto un'intervento molto intelligente sul senso di eliminare i piani di bellici nucleari quando alcuni paesi come gli Stati Uniti hanno bombatomiche in tutto il mondo. C'è un doppio peso che oggi non sta più bene a nessuno e questo dobbiamo capirlo una volta per tutta, altrimenti saremo davvero non più nella guerra fredda ma nelle guerre fredde tra tutti i paesi. Tornando a quanto ha appena detto, peraltro, e avvalorando quello che ci ha appena detto, Evan Leward, storico e politico britannico del Partito Laborista, scrive a tal proposito proprio in occasione della nascita dell'ONU, parlando di storia dell'ONU, il nuovo organismo doveva essere il più universale possibile e questa volta doveva soprattutto comprendere sin dal primo momento Stati Uniti e Unione Sovietica. In terzo luogo doveva disporre di sanzioni più efficaci di quelle consentite un tempo alla società delle nazioni, cioè doveva avere denti. Mi pare di capire che l'ONU denti non li ha mai avuti poi di fatto, no? E ce lo sta confermando. No, non è A ed è lo stesso tipo di fallimento che purtroppo sta vivendo, ha sempre vissuto in realtà l'Unione Europea, perché anche lì Renzi ha tanto sbandierato l'aver ottenuto il Ministro degli Affari Esteri europeo, Federica Mogherini, sfido qualsiasi esperto a dirmi qual è il ruolo del Ministro degli Affari Esteri europeo, non abbiamo una politica estera comune. È tutta una macchina che oggi non funziona, io mi sto dicendo che sia una macchina che non voglio che funzioni o che vada debellata, ma o ci rendiamo conto che non funziona oppure ci prendiamo in giro. I ruoli importanti oggi purtroppo li ricoprono soltanto quelli decisionali per la Comunità Europea, per l'Unione Europea, la Germania e un po' la Francia, per le Nazioni Unite e in realtà la politica estera degli Stati Uniti d'America. Infatti, sempre dalla Siria, oggi a proposito di Siria è arrivata la notizia che per il rilascio di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, le due ragazze italiane rapite nel luglio 2014 liberate nel gennaio 2015, sarebbe stato pagato un riscatto di circa 11 milioni di euro. Già c'erano state tante polemiche allora. Qual è la vostra posizione in merito a questa notizia che, attendiamo, dovrebbe essere confermata, comunque è una notizia. Guardi, ne stavo scrivendo in questo istante. È una notizia che tanto per cambiare dimostra come il nostro governo sia un governo codardo, nel senso che anche ai tempi, quando convocammo Gentiloni alla Camera per rispondere a questa domanda, noi stessi facciamo un discorso più che altro di trasparenza. Perché? Perché è chiaro che davanti a due ragazze giovani rapite, lo Stato deve fare qualsiasi cosa pur di averle, nonostante ovviamente la legge sul terrorismo preveda che non si paghi di scatto, non deve evitare di aumentare il fenomeno. Detto ciò, Gentiloni venne in aula e disse che sono soltanto illazioni, prendendo in giro sostanzialmente i deputati e i senatori della Repubblica, eletti dal popolo a differenza sua. Quindi voglio dire, sia nel solito rapporto tra governo, come sta avendo in questi momenti, durante la riforma costituzionale, è Parlamento in cui il governo pensa di poter fare e dire quello che vuole senza nessun tipo di riscontro verso i parlamentari. Quello è stato un esempio eclatante di bugie, di menzogna al Parlamento. Tra l'altro, torno a quel discorso di prima, oggi per sfortuna, a differenza degli anni 80, grazie alla rete si fa tutto. Questa è stata semplicemente la sentenza del Tribunale inviata a Lanza con un normale messaggio di posta elettronica. che si è cambiato tutto, quindi le menzogne non hanno più capacità di rimanere nell'aria, sospese, vengono distrutte subito. Da un governo ti aspetti che ci sia trasparenza. Ecco, ricordiamo che arrivano queste notizie da fonti giudiziarie di Aleppo, secondo cui una delle persone coinvolte nel negoziato è stata anche condannata per essersi intascata a circa metà del riscatto. E tra l'altro è un signore della guerra, quindi abbiamo trattato con gente che poi è la causa dei problemi stessi che abbiamo in quei territori, ma questo è un dato di fatto ormai. Le chiedo un'ultima cosa, sempre di grande attualità, visto che l'ufficio di presidenza del Senato sta parlando. Lei ovviamente è deputato, non senatore, però la notizia nel fine settimana scorso, venerdì scorso, ha fatto molto scalpore il gesto di Lucio Barani a proposito del dibattito sulle riforme. Penso che ormai è diventato anche questo motivo di indagine, che cosa faranno ricorso anche le telecamere. Io credo che comunque si debba un po' ritornare, come ha detto Grasso, un po' più di civiltà, al di là del gesto fatto o meno, ma ormai succede un po' di tutto in Parlamento purtroppo. Sì, diciamo che Grasso è l'ultimo che può parlare in tal senso, perché se guardate il video di quei momenti, anziché redarguire e quindi come un arbitro di calcio, se dai il giallo al primo fallo, i giocatori capiscono che è arrivato il momento di smetterla. Certo, sì. Invece Grasso, in quelle immagini, se la ridacchiava e diceva addirittura che questo non rientra nella riforma costituzionale. Ora, non è che se l'obiettivo del governo è di approvare una cosa, il Presidente del Senato deve diventare il suo braccio destro, il suo esecutore. Il Presidente del Senato ha intanto il dovere, non il diritto, il dovere di garantire il diritto delle minoranze, questo lo dice la nostra Costituzione. Dopodiché di far rispettare l'ordine dei lavori, la tranquillità all'interno delle Camere. Di conseguenza tu non puoi, con l'obiettivo di andare avanti, permettere qualsiasi cosa. Ci sono due momenti pazzeschi in quel dibattito parlamentare. Il Senatore Dan, che fa un gestaccio ignobile, e subito dopo, l'altro Senatore, non ricordo il nome, scusatemi, che fa un altro gestaccio ancora peggiore. Allora, se tutto è permesso, e tra l'altro, ripeto, qua non stiamo approvando una ratifica qualunque, stiamo facendo la Costituzione, quella è un'assemblea costituente, come quella che si dice la nostra Costituzione. Allora, io non immagino, sinceramente non immagino i nostri padri costituenti a fare questi gestacci quando scrivono la Costituzione. Se questa è la gente che sta riformando la Costituzione con Renzi, gli italiani devono avere paura di quello che uscirà da questa riforma. Io ce l'ho già, perché l'ho studiata e è verificata. Io credo che non si possono neanche provare, diciamo, a fare dei paragoni tra i padri costituenti e altri personaggi di oggi della politica italiana. Purtroppo sì, purtroppo sì. Però il momento legislativo è proprio lo stesso, purtroppo. Ecco, e aveva il colpo in canna, quindi a questo punto la faccio, tra virgolette, sparare a proposito delle riforme volute da Renzi. La sua opinione, in merito? È un piano chiaro e completo, a partire da tutte le riforme che sono state fatte fino a oggi dal governo Renzi per eliminare sempre di più il controllo popolare dal Parlamento. Abbiamo sempre avuto il problema, secondo il potere, ma la fortuna, secondo il popolo, di creare delle camere che avessero bisogno di dialogo, perché c'era sempre un po' di stabilità da una parte o dall'altra. Con queste riforme si è voluto dire che l'unico obiettivo è la stabilità del governo. Ma un governo è stabile quando ha delle proposte serie, altrimenti è giusto che non lo sia. Se hai le proposte serie, le opposizioni votano insieme alla maggioranza. Noi l'abbiamo fatto tantissime volte. Si vuole creare un Parlamento che qualsiasi cosa il governo voglia fare, lo possa fare. Non è così che deve essere un Parlamento democratico. Grazie a Malleo Di Stefano del Movimento 5 Stelle, deputato, membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari. Grazie per essere intervenuto alla Storia Oscura a Radio Cusano Campus. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a voi e grazie ancora.